Lei ha quasi 40 anni, è senza una gamba. Può misurarsi con un palombaro sano, che ha metà dei suoi anni? Il punto è un altro, signore. Lui può misurarsi con me. Voglio mostrarle qual è il futuro delle immersioni in profondità. È l'ultimo modello di tuta a miscela sintetica Heliox, pesa oltre 130 kg. E a chi vuole usarla è richiesto prima ancora di iniziare il corso di addestramento, di indossarla e compiere 12 passi senza aiuto. È in grado di farlo capobrescero. Sono in grado, signore.